Tutti abbiamo fatto errori in questi 30 anni, perché sennò non saremmo in questa situazione. Il problema per oggi che ci dobbiamo porre, al di là della rabbia e dello sbocco che la rabbia prende, è com'è che non facciamo andare per aria tutto? E io non credo che c'è questa consapevolezza. Cioè che tutto sta per andare per aria. Ma non è sta per andare per aria fra 5 anni, sta per andare per aria fra 5 mesi. Qualcuno potrebbe dire, gli elettori, anche Salvini qualche giorno fa, diceva ogni volta che vince la destra c'è sempre questa cosa di qualcuno che si alza e dice Perché lo vogliono sgredolare, perché lo dicono. Cioè sono per il ritorno all'Europa delle Nazioni che per l'Italia vuol dire il fallimento, cioè il fallimento tecnico. La conseguenza di quello che sta facendo, di quello che succede in Francia, è che i tedeschi hanno detto, noi se c'è una tempesta finanziaria, soldi per salvare l'Italia e la Francia non li mettiamo. E nel contempo quello che sappiamo è che se, come è plausibile, vince Trump negli Stati Uniti, l'Alleanza Atlantica ne risulta rotta o gravemente danneggiata. Questa cosa non l'abbiamo mai vissuta. Cioè sono 70 anni che non abbiamo vissuto questo. Cioè dice, mai abbiamo vissuto un periodo come questo? Mai, mai. E questo si aggiunge a un paese come l'Italia che fra 5 anni dovrà mettere 20 miliardi di euro l'anno per pagare le pensioni. E perché le persone hanno votato così? Ad esempio, partiamo dalla Francia. C'è una grandissima rabbia, perché negli ultimi 30 anni la globalizzazione e l'innovazione tecnologica non gestita hanno creato disuguaglianze enormi. E siccome al governo ci sono stati i popolari, i liberali e i progressisti, la gente giustamente molto incazzata dice, io provo qualunque altra cosa che penso che mi farà star meglio. Il problema è che quell'altra cosa che penso che mi farà star meglio, e che vuol dire l'estremizzazione anche a sinistra, a Mélenchon oppure il fronte nazionale, sostanzialmente quella cosa là, finiscono di destabilizzare il sistema. E la fine della destabilizzazione del sistema per l'Italia potrebbero non pagare pensioni. E che questo sistema di estremizzazione continuo, assoluto, giornaliero, con la cronaca ogni giorno, quello che sta semplicemente portando è la dissoluzione di quello che abbiamo costruito, dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e della possibilità di pagare Western States. Perché l'Europa poggia su due pilastri, la Francia e la Germania. E siccome la Germania ha la destra molto forte, e la destra dice non aiutiamo nessuno, i soldi nostri sono i nostri, andate tutti a quel paese, quello che succede è che anche i partiti liberali incominciano a dire noi non aiutiamo nessuno. Questa roba qua, io non credo che noi abbiamo la consapevolezza di che cosa sta generando. Su una rabbia giusta, che io considero del tutto comprensibile quando i salari sono fermi da 30 anni, la sanità è a rischio, sta venendo giù tutto. E mentre sta venendo giù tutto, siamo sempre meno persone, perché gli elettori sono sempre meno, che si tirano le pietre. Non capendo che se non riusciamo a fermare questo gioco qua, non rimane niente.